Siamo innanzitutto la casserile che per i suoi 50 anni ha deciso di riqualificare una piazza e la città, ha chiesto all'amministrazione di scegliere, io non ho avuto dubbi di puntare subito qua sui quartieri spagnoli, un segnale importante, una piazza che è stata sempre dei bambini, infatti è molto bella l'immagine che le frasi su questi totem sono state scritte dai bambini della paesilla o qua nei quartieri spagnoli e la piazza è loro, la devono gestire loro, la devono proteggere loro, la devono far vivere loro, questo è il segnale, la città è di tutti ma soprattutto dei bambini e dei ragazzi.